Come è andato questo campionato? Mi sembra che si poteva fare un po' meglio? Speravamo in alti e bassi, sono venuti tanti bassi, insomma prendiamo un po' quello che viene. Ci siamo divertiti, però non abbiamo fatto un gran bel calcio, quindi è un po' quello un peccato. Però hai detto una cosa fondamentale, ci siamo divertiti, questo è comunque sinonimo di unione, di gruppo e questo fa sì per un altro anno di migliorare la situazione. Ma sì, quello noi tutti gli anni comunque ci crediamo, ormai non mi ricordo neanche più quando era il primo anno che ci siamo iscritti ai tornei così tra amici, non lavoravamo. Una volta eravamo tutti studenti, quindi belli in forma, tutta la giornata dedicata a prepararsi anche mentalmente, adesso tra un lavoro e l'altro siamo un po' più in difficoltà. Però insomma ci facciano le ossa anche così. Quali sono state le difficoltà che avete incontrato per questo campionato? Ma allora, con le squadre diciamo il livello di calcio è un buon livello secondo me di questo torneo, quindi squadre compatte, solide, quindi nei confronti degli altri ci siamo trovati delle belle corazzate. Al nostro interno è mancato un po' di gioco proprio nostro, quindi è inevitabile, siamo ultimi, insomma un motivo c'è anche nostro, non è che bisogna dare la colpa fuori. Allora un altro anno campagna faraonica, qua bisogna levarsi qualche soddisfazione. Ci facciano sentire col presidente, un paio di innesti, comunque a parte l'attacco, centrocampo e la difesa non eravamo una brutta squadra. Comunque sicuramente primi in classifica per la sportività e per lo spirito con la quale avete interpretato questo campionato. No, quello sempre, quello sempre, l'anno prossimo cerchiamo di essere un po' più competitivi, insomma dare un po' di filo da torce, dare un po' più di squadra, dai. Prova, prova, prova. Prova, controva. Prova, cambiare. Prova, cambiare, cambiare, cambiare. Grazie a tutti.